Oggi presentiamo il libro sulla armonizzazione della psicologia umana. Le sequenze per la armonizzazione psicologica sono un gruppo di sequenze che hanno una notevole importanza nel percorso di applicazione della tecnologia di Grabovoi, perché senza nulla togliere le sequenze per il corpo, che comunque sono veramente importanti, noi i tre quarti della nostra giornata, se non quasi i quattro quarti della nostra giornata, li utilizziamo sfruttando la nostra psicologia. Un dato importante che, diciamo, comprova anche questa cosa che ho appena detto, è che l'applicazione della tecnologia di Grabovoi non si fa con la meditazione. Cioè noi abbiamo, nel nostro cervello ci sono dei cicli cerebrali, questi cicli vengono associati all'andamento delle onde, cioè il cervello viene misurato con delle velocità, con delle onde. Questi cicli vengono misurati con un'unità di misura che si chiama Hertz, l'Hertz viene analizzato secondo per secondo. Quindi diciamo che c'è un'ampia gamma, non un'ampia, diciamo varie gamme di frequenze cerebrali, che vanno dalle frequenze più basse, che sono quella delta, per esempio, che utilizziamo per dormire o per fare delle migrazioni molto profonde, o quella theta, alfa. La frequenza logica è quella beta che ha 14 cicli al secondo di media, poi diventano 25, 18, a seconda del tipo di attività che noi stiamo svolgendo. Però la fase beta del cervello è la fase del ragionamento, a differenza di tutte le altre tecniche esistenti, anche di quelle più valide, come per esempio potrebbe essere il quantum entramente di Flanchislo, che io ho studiato approfonditamente e che trovo una tecnica meravigliosa. La fase beta del cervello è quella che noi utilizziamo quando prendiamo l'autobus, quando facciamo la spesa, quando guidiamo la macchina, quando andiamo a lavorare, quando facciamo le riunioni, quando parliamo con i parenti, quando camminiamo per strada. Cioè noi possiamo decidere di scendere di livello, no? Io ho fatto per diverso tempo un seminario che si chiama La dimensione della consapevolezza, dove insegnavo le persone a fare tutto quanto con l'onda delta, quindi da svegli l'onda delta, no? Questa tecnica invece è, si discosta un po' da questo principio che è un po' più comune nelle tecniche esistenti, che è quello di sviluppare un processo di pensiero consapevole che sia edificante. Quindi questo livello di edificabilità è supportato dall'esistenza delle sequenze numeriche, come anche delle strutture geometriche che si usano nel pilotaggio, no? Però oggi parliamo delle sequenze numeriche. Quindi che succede? Che noi, quando mettiamo in pratica la tecnica di Grabovoi attraverso l'utilizzo di una sequenza numerica, lo dobbiamo fare da svegli, non dobbiamo scendere in trance, cioè dobbiamo fare… C'è gente in Russia, anzi veramente la maggior parte degli allievi di Grabovoi, lo fa a occhi aperti il pilotaggio. Io ho cominciato da poco a fare il pilotaggio a occhi aperti, però devo dire che la concentrazione fatta a occhi aperti in un punto dello spazio a volte può essere più facile di quella che si fa a occhi chiusi. E io ho sempre creduto, personalmente per me è stata una scoperta, è una scoperta che ho fatto veramente, forse un paio di mesi fa ho cominciato, dopo il seminario che c'è stato ad agosto di Marina Moroschina, che è una delle più grandi allievi di Grabovoi, che studia con lui da 30 anni, che ha fatto fare tutti i pilotaggi con gli occhi aperti. Quindi diciamo che, questo per dire cosa? Per dire che questa tecnica è più facile da applicare delle altre tecniche esistenti. Il Theta Healing, per esempio, è una bellissima tecnica, è molto difficile, non è facile. L'onda Theta è un'onda molto sfuggente, a differenza dell'onda Delta, che è un'onda che si può acchiappare facilmente, l'onda Theta è veramente un'onda molto sfuggente, perché è un ciclo che non è né lento né veloce, e quindi mantenerlo in una meditazione è veramente molto difficile, non è facile. Anche chi è bravo a fare questa cosa, se glielo chiediamo, ci dirà sì è vero, non è facile. È più facile mantenere l'onda Delta, perché l'onda Delta è l'onda del rilassamento profondo, e il nostro cervello la riesce a riconoscere perché è molto ben strutturata, è più densa. Quello che noi dobbiamo fare invece con la tecnica di Grabovoi è utilizzare questa tecnica con un processo di cicli beta. Per questo che nasce questo libro. Per questo che nascono queste sequenze per l'armonizzazione psicologica. Perché l'armonizzazione psicologica è un'armonizzazione dei processi del pensiero logici, dei processi del pensiero attivi, dei processi del pensiero quotidiani. Tant'è vero che questo libro contiene tre tipologie di sequenze. Poi a volte sono quattro, però diciamo che in generale ne possiamo identificare tre. Primo, la sequenza per eliminare un disturbo psicologico. L'altro giorno stavo ripassando questo libro e mi è venuto in mente che c'era un film con Johnny Depp che si chiamava Don Juan de Marco, maestro d'amore, che parlava di uno che ci provava con tutte le donne che gli incontravano, belle, brutte, alte, magre, grasse, basse, sane, matte, sane, perché lui era convinto che le donne avessero di per sé una bellezza interiore che comunque andava cercata, andava sfruttata, trovata. Però poi alla fine questo Don Juan de Marco è impazzito, perché chiaramente è diventata un'ossessione per lui, no? Ed esiste una sequenza, infatti ho fatto pensare a quel film, che si chiama Don Juanismo, che serve proprio per curare dei disturbi disturbi dovuti per esempio a un eccesso di attrazione per il sesso opposto da parte dell'uomo nei confronti della donna. Quindi questo è un disturbo vero e proprio, no? Come un disturbo è l'ansia, come un disturbo è la preoccupazione, la paura della morte, no? È un disturbo psicologico. C'è una sequenza importantissima qui, che è una sequenza che si chiama Fuga nella malattia. È una sequenza importante perché è la sequenza di raccordo fra tutto quello che dice la scienza e tutto quello che dice la spiritualità, perché la scienza analizza il problema medico, il disturbo psicofisico da un punto di vista medico, no? Da un punto di vista organico. La spiritualità ne analizza l'aspetto emotivo, psicosomatico, no? Adesso la scienza e la spiritualità stanno cominciando a unificarsi e questa sequenza aiuta proprio le persone a bloccare il processo di direzione delle proprie fragilità nelle malattie. Quindi è una sequenza importante. Quindi diciamo che c'è questo gruppo di sequenze proprio che è mirato mirato a risolvere problemi psicologici di natura specifica. Poi c'è un altro livello. Ci sono le sequenze psicologiche che possono essere utilizzate per intervenire sugli altri, proprio per curare gli altri, senza neanche più avere il loro permesso, perché con l'obiettivo di portare l'eternità, il concetto dell'eternità fisica nel loro corpo, noi possiamo indirizzare qualsiasi sequenza verso chiunque, perché è fatta con un principio di macro salvezza. Quindi possiamo indirizzarla verso gli altri. Il principio più importante della tecnologia di Grabovoi è che noi ci troviamo in un momento in cui, e questo momento terminerà nel 2017, in cui la struttura generica dell'individuo sta cambiando. Noi non ci reincarneremo più. Ci saranno due tipologie di esseri umani. Quelli che faranno il salto quantico e raggiungeranno un'eternità fisica e poi saranno loro a decidere quando morire e se morire, perché l'eternità delle cellule sarà garantita da un continuo ricambio di acqua e di struttura genetica. E poi ci saranno le persone che invece non si rincarneranno più nel corpo fisico, ma si rincarneranno in altre dimensioni. E' una visione un po' apocalittica, perché questo salto quantico vuol dire che un po' di persone non ce la faranno. E assisteremo a diversi disagi in questo pianeta, in questo periodo del salto quantico, fino a un reset quantico completo, dove ci saranno soltanto persone che contribuiscono ad espandere la frequenza universale. Quindi noi a un certo punto diventeremo degli impiegati, dell'universo e il nostro processo del pensiero sarà talmente edificante che ogni nostro pensiero e l'universo si espanderà. E questo però comporta anche che il pianeta andrà dietro a tante strutture di cambiamento, e quindi le persone seguiranno questo andamento. La sequenza per l'armonizzazione psicologica garantisce l'eternità fisica delle cellule. Ed è il secondo livello, anzi questo è il terzo, è il più importante secondo me, anche secondo Grebovoi. Il secondo livello è quello per aiutare gli altri. Poi c'è un livello intermedio che è quello che serve per gli operatori del settore. Se una persona è un operatore olistico o anche uno psicologo, può cominciare a utilizzare queste sequenze per aiutare gli altri, e utilizzarle nel proprio counseling. quello più importante di tutti invece è quello che, leggendo questo libro continuativamente, come se fosse un romanzo, cioè proprio 5, 6, 7, 8, 4, coscienza collettiva, la coscienza collettiva, e poi vai avanti, si struttura all'interno del cervello un rinnovamento dei neuroni che comporteranno la morte dei neuroni precedenti, la nascita di nuovi neuroni, quindi di nuovi collegamenti fra questi neuroni che vengono chiamate sinapsi, e che sono quei collegamenti che ci fanno ragionare e che ci fanno preferire delle cose piuttosto che altre, ci fanno comportare, quindi tutto il nostro sistema di convinzioni, no? Passa da limitante a eterno, è una cosa molto importante. Io vorrei fare una, aprire una piccola parentesi su una nostra caratteristica come esseri umani. Allora, in America hanno fatto un esperimento, hanno creato un paio di occhiali che deviava la visione della realtà di 30 gradi a destra, ok? E hanno fatto un esperimento con due sposi che si stavano proprio sposando, gli hanno messo questi occhiali, e loro hanno fatto tutta la cerimonia con questi occhiali. Quando sono andati, usciti fuori dalla chiesa, che dovevano stare fermi, quindi quello era facile. Allora hanno cominciato a cercare di darci un bacio e lui ha fatto così. E la bocca della moglie era qua. Poi hanno fatto lo stesso esperimento con la torta nuziale, no? Lui ha preso, la torta era qua, lui ha preso il coltello e ha fatto così. E ha messo la... No, e ha messo la... Esatto. No, e ha messo il coltello sul tavolo. La moglie, quando poi lui ha tagliato la fetta, la moglie ha preso, invece di prendere la fetta, ha preso con un'altra cosa un piccolo vasetto che c'era. Perché il cervello è abituato a guardare davanti, no? Alla visione periferica e soprattutto però alla visione frontale. Questo paio di occhiali, deviando questa visione, ha impedito al cervello di guardare davanti. Però il cervello cosa ha fatto? Siccome l'essere umano è molto furbo, ha cominciato a riadattarsi a questo nuovo sistema. E passato un quarto d'ora, 12 minuti per la precisione, questi qua hanno cominciato a fare i calcoli. Lui allora ha fatto... Guardava la fidanzata, la vedeva lì e lui la vedeva lì e dava i baci così. Quindi praticamente diceva via gli occhiali, la vedeva là e dava il bacio così. Ed è la stessa cosa per la torta, la vedeva lì e quindi faceva così e tagliava la torta. E tagliava veramente la torta, no? Questa è una caratteristica del nostro cervello che si chiama neuroplasticità. Ed è la capacità di adattarsi a tutte le situazioni ambientali nonostante qualsiasi tipo di interferenza. Quindi noi, in questo momento, stiamo utilizzando la nostra neuroplasticità per tutto. Quello che noi stiamo facendo è vivere la nostra vita grazie a questa capacità del cervello. Noi possiamo vivere tutta la vita pieni di fragilità, pieni di convinzioni limitanti, pieni di idee sbagliate, pieni di pregiudizi. Possiamo vivere in questo modo. C'è tanta gente che vive così e c'è tanta gente che addirittura non vuole cambiare. Questa neuroplasticità è un'arma a doppio taglio, però è una grande caratteristica umana. Grazie a questa neuroplasticità loro sono in grado di dirti che loro vanno bene così e non vogliono cambiare. Che succederebbe se noi bypassassimo questo principio, bypassassimo questa capacità e mettessimo nella struttura di base su cui poi la neuroplasticità adatta la nostra vita, il nostro ambiente, se mettessimo una struttura normalizzata? Faccio un esempio. Se una persona ha avuto un trauma quando era piccolo perché magari il papà gli ha detto no, tu carosella non la devi vedere, vattela a letto. Quello è rimasto malissimo. Magari noi diciamo carosella è una stupidaggine, invece quello per il bambino vorrebbe essere un trauma. E si porta questo trauma a presto per tutta la vita perché quando era piccolo si è sentito richiutato in quel momento dal papà. Si apre, si definisce nel suo cervello un'area preposta, diciamo così, alla paura a porsi in contatto con le relazioni, a porsi nel confronto con gli altri. Grazie alla neuroplasticità questo individuo comincerà a vivere una vita adattandosi a questa paura e quindi sarà più diffidente, quindi darà più confidenza, darà confidenza più difficilmente, poi magari a qualcuno la darà, al livello 10, a qualcuno la darà a livello 1, a qualcuno non gliela darà per niente. perché alla struttura, cioè perché questa neuroplasticità si è adattata alla struttura di base preposta che si è creata con le caratteristiche della paura. Ma che succederebbe se noi ci mettessimo una sequenza numerica là dentro? Una sequenza che normalizza la frequenza di quell'area del cervello che noi adatteremmo la nostra vita ad un ambiente secondo una struttura normalizzata dell'energia. Cioè le sequenze numeriche 191-317-481-901 non vanno interpretate come un numero di telefono, sono numeri singoli messi uno vicino l'altro. Il numero 1 fa parte di un'area del cervello, il numero 9 fa parte di un'area del cervello, il numero 1 fa parte di un'area del cervello, il numero 3 e così via. Quella è la personalità autorealizzata. Una personalità autorealizzata comporta l'utilizzo di 1 2 3 4 5 6 7 aree cerebrali. È chiaro perché? Ok. Quando noi abbiamo una personalità autorealizzata, queste 7 aree funzionano nella norma. queste 7 aree funzionano esattamente come sono state create quando è stato creato l'uomo. Noi abbiamo nella struttura dell'anima che è una sfera diciamo di un metro di diametro, un polo nord e un polo sud. All'inizio del polo nord c'è un cerchio come un disco volante che si chiama punto della percezione che è la porta all'ingresso attraverso cui noi cerchiamo di entrare in contatto con l'anima. Sotto il punto della percezione ci sono due punticini nell'anima uno qua e uno qua e uno qua che si chiamano punto della costruzione universale e punto proprio della costruzione. Il punto della costruzione universale è il punto di ripristino dell'essere umano esattamente come è stato creato. Quindi è come se fosse il software di base dell'essere umano. Il proprio punto della costruzione è come noi siamo adesso. Quello che succede con le sequenze numeriche o con la tecnologia dell'eternità in generale è quello che questi due punti cominciano a essere uguali. Il proprio punto della costruzione ripete automaticamente il programma del punto di costruzione universale. Quando tu vivi come resettare esatto e praticamente facendo questo reset tu porti il cervello al punto della costruzione universale cioè in collegamento con il punto della costruzione universale. quindi che succede? Che le aree del cervello si rinormalizzano. Noi in questo momento tutti tutti quanti le persone comprese in questa sala hanno sicuramente delle aree del cervello che sono andate diciamo un po' per la tangente. Ok? Io per certi versi lei per certi versi tu per certi versi tutti ce l'abbiamo. Questa cosa è dovuta a due aspetti importanti e finalmente si può dire che non è colpa nostra uno è il karma perché noi abbiamo vissuto un sacco di volte e quindi ci portiamo a presto una grande biblioteca akashica molto potente no? Uno è l'ambiente questa è la prima tecnica che finalmente interpreta l'ambiente come un elemento di contatto con l'individuo capace di modificarlo. Quando si fa un esercizio per la percezione dell'eternità del corpo fisico quindi per garantire l'eternità al corpo fisico l'esercizio che si fa è questo si visualizza un punto nello spazio si vede la propria figura in relazione a degli oggetti dell'eternità che possono essere il telefono il libro il tavolo questo pacchetto qua tutti gli oggetti della realtà fanno riferimento al mondo eterno e si comincia a percepire una nebbia una piccola una leggerissima nebbia proprio come se uno va verso Vigevano la sera di novembre e vede quella nebbia lì quella è proprio l'eternità della vita io adesso ho capito perché Dio ha creato la nebbia per farci visualizzare l'eternità e visualizzare quell'eternità e visualizzare quella nebbia vuol dire entrare in contatto con una sostanza biologica che entra nel corpo a mezzogiorno e a mezzogiorno è 0-1 e sarà portata in giro per tutto il nostro organismo dal sangue informando tutte le nostre cellule sull'eternità della vita ma come esiste questa nebbia dell'eternità esiste anche un ambiente malsano che entra in contatto con il nostro organismo e che viene portato in giro dal nostro sangue ugualmente quindi noi normalizzando la nostra sfera psicologica potenziamo la nostra capacità di adattarci all'ambiente e il nostro livello di adattabilità sale 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 e si evolve fino al ringiovanimento delle cellule l'adattabilità è un sistema importante nella tecnologia di Grebovoi perché è la strada verso il ringiovanimento l'uomo non è necessario che si invecchi Dio non gli ha detto Dio ha detto a Grebovoi io sono tendo a semplificare sempre molto e lo dico anche a volte un po' però Dio è come se gli avessi detto Grigori ma te chi ti ha detto che un uomo deve invecchiare quindi perché l'uomo non deve invecchiare cioè l'uomo quello che è stato un po' travisato dal buddismo è questa concezione che aveva Buddha della vita che è fatta di nascita crescita invecchiamento e morte lui ha segnato un grosso passaggio nella coscienza collettiva enorme e ha inserito nella coscienza collettiva la convinzione che noi dobbiamo invecchiare e morire però in quel momento è quello che ha fatto lui Buddha forse ne avevamo bisogno però quello che invece adesso dobbiamo inserire nella coscienza collettiva è il concetto che noi non dobbiamo invecchiare che noi possiamo mantenere un corpo sano e ringiovanire c'era un signore in Russia ed è documentato sia su Youtube che sui libri di Grebovoi tramite anche una commissione interna di inchiesta di dottori che era presente all'avvenimento c'era un signore che aveva un tumore all'ultimo stadio un signore di 72 anni Grebovoi ha fatto un intervento ha fatto un pilotaggio uno solo e gli ha rimesso a posto le cellule aveva un problema che praticamente aveva un problema di conversione d'onda nell'ipofisi quindi aveva l'ipofisi che funzionava in modo diverso gli ha rimesso a posto l'ipofisi e in due giorni questo signore è guarito dal tumore completamente i figli quando l'hanno visto si sono spaventati che questo signore dimostrava 30 anni di meno 30 cioè sembrava un quarantenne questa forte energia che ha trasmesso il papà a questi figli è stata talmente forte che i figli a loro volta sono guariti da altri problemi che avevano perché il contatto dell'eternità con il nostro entourage affettivo e anche sociale se vogliamo noi perché affettivo è immediato sociale ci vuole l'intenzione comporta anche la trasmissione del concetto di eternità a tutto questo entourage c'è un effetto in fisica quantistica c'è una cosa che si chiama l'effetto marisci non so se l'avete mai sentito che al cambiamento interiore di un individuo consegue il cambiamento interiore di 6 persone che vivono il proprio entourage affettivo e a loro volta a macchia d'olio ogni 6 persone che guariscono altre 6 fino a espandersi questa cosa quindi fondamentalmente quello che si fa guarendo la nostra psicologia quindi il nostro aspetto emotivo psicologico e guarendo i nostri processi logici è quello di farci adattare all'ambiente in una maniera più attiva attivando proprio l'elemento di proattività presente nella nostra anima quindi che cosa succede che si mette in piedi un meccanismo di rapporto fra persona fisica spirito anima coscienza intelletto percezione che lavora tutto quanto all'unisono adesso noi per colpa di questi numeri deviati che abbiamo nel cervello magari io mi auguro di no però diciamo che sicuramente qualcuno di noi qualcuno io personalmente qualcuno ce l'ho che non va vuol dire che in questo momento il mio livello di adattabilità non è quello divino se io torno a quella frequenza il mio livello di adattabilità alla società diventa divino e io posso controllare la materia fino al punto di cambiarla quindi posso cambiare anche l'inquinamento posso cambiare la struttura dei fiumi posso cambiare la struttura dei laghi posso cambiare la struttura delle falde acquifere che poi diventano l'acqua minerale che noi ci beviamo quell'acqua lì la plose che dicono che sia la migliore del mondo che sia la più santo risette quelle montagne risentono ugualmente della coscienza collettiva non esiste un'acqua pura se non è informata della purezza e l'unico strumento di informazione della purezza del pianeta sono gli esseri umani perché il pianeta come dice Grabovoi per un sistema di fisica teorica è il vettore di sviluppo dell'uomo il pianeta è quindi tutti i nostri eventi personali il lavoro il denaro le relazioni sentimentali le guarigioni quindi tutto il nostro sistema terreno sono tutti i nostri vettori di sviluppo senza di noi questa realtà si deteriora e noi invece con la nostra intenzione di normalizzare le situazioni portiamo quell'attività a migliorare il suo livello di adattabilità e quindi a ringiovanire ringiovaniamo le montagne ringiovaniamo il nostro corpo ringiovaniamo gli occhi ringiovaniamo le gambe ringiovaniamo la circolazione guardiamo del colesterolo e via dicendo faccio un esempio con la posta noi siamo sempre stati incavolati con la pubblica amministrazione in Italia abbiamo sempre detto ammazza non funziona la pubblica amministrazione poi la nostra attività politica ci ha talmente distratto da questa cosa della pubblica amministrazione che la pubblica amministrazione per fortuna ha potuto evolversi infatti adesso le poste funzionano meglio ma perché? perché nella coscienza collettiva ci siamo distratti e per un po' di tempo abbiamo smesso di dire che le poste non funzionavano quindi la coscienza collettiva si è modificata e le poste si sono un po' più evolute pensate che cosa vorrebbe dire applicare questo processo di pensiero a tutte le attività umane compreso il governo noi continuiamo a dire Berlusconi era uno stupido Renzi era un deficiente 100 urbani soldi ma se continuiamo a dire così questa coscienza collettiva si struttura e diventa costantemente densa un sistema di dimensioni edificanti vuol dire costruire una società dove il linguaggio la comprensione l'empatia la considerazione dell'ambiente la considerazione degli altri sono armonizzabili non armonizzate armonizzabili in questo c'è una piccola diciamo grandissima dinamica evolutiva c'è un piccolo salto evolutivo perché una cosa è pensare che fra me e lei il rapporto non potrà mai esistere una cosa è porsi in un modo come dire vabbè vediamo come è lei magari mi piace un sacco che ne so magari mi sta simpatico e diventiamo amicissimi cioè è diverso è proprio un supporto psicologico molto più importante c'è un esercizio che si fa nella tecnica di Grabovoi che praticamente parte da questo si immagina una sfera di luce bianco-argento che poi è la luce dello spirito è la luce della coscienza dentro questa sfera si immagina il pianeta terra e nel pianeta terra si immaginano tutti gli esseri umani che vanno in giro un po' come dei simpatigoni che si salutano tutti fra di loro ah ciao come stai tutto a posto ma deve stendere che fai oggi c'è un'adienza in tribunale io ando a far pane perché oggi faccio quello integrale tutto immaginarsi in una situazione del genere dove tutti quanti fanno delle cose diverse vivono in un modo diverso ognuno ha delle preferenze diverse ma questa cosa avviene in modo armonico e poi all'interno di questo pianeta è di identificare se stessi quindi camminare in mezzo alla strada e far parte di questa di questa dinamica relazionale no? e quindi oltre all'avvocato al panettino ti metti anche te e te dove vai? ma io adesso vado a fare un giretto perché oggi c'ho voglia di andare a lavorare ma vado a fare qualcosa altro e ti ci metti anche tu e quella è diciamo la stessa composizione energetica a livello di pensiero della salvezza globale e dello sviluppo armonico quello che noi abbiamo avremo ipoteticamente di uguale è il desiderio della salvezza globale che è una cosa diversa da essere uguali di carattere da uniformarsi io e te no? però però questo è quello a cui si tende utilizzando la tecnologia di Grabovoi faccio un esempio anzi no descrivo una cosa che ha detto Grabovoi la settimana scorsa al webinar lui sta facendo queste lezioni di eternità sulla vita no? allora lui ha detto che la nostra coscienza nel momento in cui non è strutturata quindi non è informata questa dinamica della salvezza globale ha una forma qualsiasi che potrebbe essere per esempio che ne so questa ok? no questa no questa qui l'arrivo aspetta facciamo così ok una piramide allora questa qui è la coscienza di una persona che magari ancora si deve un po' evolvere quando si fa un lavoro di eternalizzazione della coscienza quindi utilizzando per esempio per esempio dico perché ci sono anche delle altre tecniche però utilizzando le sequenze numeriche per l'armonizzazione psicologica che succede? che si armonizza il processo del pensiero quindi si struttura la coscienza e la mia struttura della coscienza assume questa forma questa è una forma io adesso non è che sono proprio giotto però diciamo è una specie di piramide senza di piramide senza la parte no? quella lì senza la punta questa è la struttura della coscienza se venisse tradotta in una forma geometrica che avremmo l'unica cosa che avremmo uguale io e te perché quella struttura lì raccoglierebbe ha una capacità di raccogliere delle informazioni che non ha questa struttura qua è come se fosse una radio che è in grado di raccogliere le frequenze AM oltre quelle FM se tu ti compri una radiolina che fa solo frequenze FM raccoglie solo quelle quindi senti la radio normale se tu vuoi vedere la radio AM devi comprare una radiolina che ha quella struttura lì di ricezione diciamo che in questo sistema qui è la stessa identica cosa questo è un livello di coscienza unificata alla salvezza globale all'eternità della vita quando noi applichiamo le tecniche di Grabovoi questa struttura della coscienza si rimodella e contiene all'interno la struttura dello spirito che in altri casi potrebbe essere al di fuori di quello e questa struttura di ricezione diventa più potente quindi tu sei in grado di fare un lavoro di percezione molto più grande io vi guido diciamo per chi non l'ha mai fatti vi guido nelle parole che bisogna dire e facciamo un pilotaggio se siete d'accordo possiamo scegliere sviluppo della coscienza ottimismo illuminazione aumento della responsabilità togliere i sintomi della vecchiaia paura ansia pigrizia personalità autorializzata guarda allora facciamo una cosa questa sequenza qua li comprende tutti questa è la sequenza dei santi è la sequenza di emissione di Gesù per capirci e la frequenza di emissione dei maestri ascesi cioè quelli che non c'hanno nessun problema nessuno va bene tu qualsiasi cosa allora questa cosa qui è una allora questa sequenza aiuta la struttura psicologica dell'individuo a entrare in uno stato di grazia entrare in uno stato di grazia ve lo potete immaginare cosa significa cioè significa come diceva il presidente di Geda del buddismo non significa guadagnare niente casomai significa togliere togliere un sacco di roba togliere angoscia paura disperazione depressione malinconia tristezza rabbia significa togliere perché noi questo processo che facciamo qui non ci aiuta ad aggiungere ci aiuta a semplificare cioè a tornare come eravamo capito quindi facciamo questo personalità autorealizzata ok chiudete gli occhi e pronunciate mentalmente queste parole io entro nella sfera dell'anima e vedo e agisco come il creatore salvezza globale e sviluppo armonico 1 7 8 4 1 2 1 il mio desiderio è di sviluppare una personalità una personalità autorealizzata e per questo immagino davanti a me a una distanza di 4 metri e mezzo massimo quindi potete scegliere fra 10 centimetri 20 centimetri 50 l'importante è che non sia tanto distante quindi iniziate vedendola vicina così siete sicuri dentro questa sfera di luce bianco-argento quindi una sfera di colore argentato chiaro come se fosse quasi metallica vicino al bianco inserite l'immagine del pianeta Terra come se fosse la visione del satellite e come fa il satellite entrate dentro questo pianeta e guardate le strade delle città dove c'è moltissima gente che cammina sorridente che si saluta che sembra che si conoscano tutti New York Tokyo Parigi Londra Los Angeles Mosca Roma Milano il proprio posto dove si vive e in questo posto dove vivete scorgete anche la vostra immagine e vedete voi che camminate in mezzo alla strada felici appagati con una profonda consapevolezza che tutto ciò che fate vi porta successo in qualsiasi ambito umano tutti vi salutano vi conoscono vi apprezzano c'è del grande rispetto in questo c'è l'armonia di non dover cercare niente e che c'è e c'è una grande capacità di comprensione ed empatia in tutto e in tutti e su questa immagine di grande soddisfazione di enorme soddisfazione inserite la sequenza sopra come se scriveste su una foto 1 9 1 3 1 7 e poi staccato 4 8 1 9 0 1 adesso cercate di riempire questa sfera con una luce bianca che proviene dal vostro terzo occhio riempitela come se voi poteste emanare un raggio che riempie e colora come se fosse una pila illumina tutta la sfera fino a riempirla di luce tanto da non far che non si veda di niente e ringraziate ok